Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, ultime ore in compagnia del promontorio anticiclonico, poi nel weekend l'arrivo di una perturbazione atlantica aprirà una fase di maltempo autunnale che potrebbe durare per diversi giorni. Attesi piogge e temporali anche intensi, in generale calo delle temperature. Vediamo allora nel dettaglio e con l'ausilio della grafica accanto le previsioni meteo per domenica 5 novembre. Cieli nuvolosi al mattino, con piogge e temporali sparsi su regioni settentrionali, Toscana e Sardegna. Fenomeni localmente intensi su Liguria e Toscana, più asciutto altrove, con ampie schiarite su Cuglia e Calabria. Diffuso maltempo al pomeriggio su regioni settentrionali, Toscana e Sardegna, che oggi è in arrivo anche su Umbria, Lazio e Sicilia occidentale. Variabilità asciutta altrove. Inserata a maltempo al centro-nordo, con acquazioni e temporali diffusi anche di forte intensità, specie al nord-est e lungo il versante tirrenico centrale. Piogge sparse anche su campania e isole maggiori. Nella notte condizioni di maltempo diffuso sull'Italia, con piogge temporali sparse. Fenomeni più intensi al nord-est e sulle regioni del centro. Neve in calo sulle Alpi dai 1800 metri ai 1100-1200 tra la sera e la notte. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in calo al nord e lungo il terreno, in aumento altrove. Per ulteriori dettagli scaricate la nostra app Meteo, cercate direttamente la località che vi interessa sul nostro punto. Un saluto e buon weekend da parte del Centro Meteo Italiano.